... Che c'è? Sono tornato! Chi? I motociclisti Non dirmi che c'è paura No, ma che io oltretutto in motocicletta non ci so andare La carriola mica ce l'hanno ridata E allora? Ti comunico che io mi sono arrabbiato Io invece no No, ma che io mi sono arrabbiato Senti, ma quell'uomo vestito di nero In quella macchina nera Non pensi che possa essere un killer? Ci sono serie possibilità Io quando si spara non mi diverto più E tu lascialo perdere Se lui lascia perdere noi Non credo proprio Ma... Allora io vado Che? Lo prendi alle spalle? No, no, lo prendo sul sedio Me ne vado proprio Taglio, filo, spalisco товa No Agggio Iscriviti ... Mu Si , Grazie a tutti.